Amo ballare perché quando ballo posso essere chiunque, diventare qualsiasi cosa. Posso esprimere le mie emozioni, quelle che mi abitano dentro. Giussi Comunale, atleta della Dirty Dancing School di Agropoli vince al contest Fids Ripartiamo, svoltosi a Riccione dal 25 al 27 marzo scorso. L'atleta di danza sportiva vince due medaglie d'oro e due d'argento, aggiudicandosi l'accesso al club azzurro come rappresentante della nazionale italiana danza sportiva. Emozionata la maestra Agnese Di Biasi, che dichiara grande orgoglio e soddisfazione in un momento così delicato della nostra vita, dove la voglia di normalità è tanta, ma la passione e la determinazione lo sono ancora di più. Se è stata magica ieri come oggi e tutti hanno potuto ammirare la tua luce e quella che emani entrando in quella pista, un'emozione che non riuscivo nemmeno a spiegare, ma i nostri grandi abbracci hanno tolto spazio alle parole e hanno trasformato tutto in una grande emozione. Sono queste le parole della maestra Agnese Di Biasi verso la sua allieva Giussi Comunale. La passione, l'amore è più grande se nasce lì, nel profondo del tuo cuore.